Ciao a tutti e a tutti, bentornati bentornati in un nuovo vlog, allora praticamente oggi non so cosa faremo ma spero che il tempo passi presto perché già mi sto annoiando che devo stare qua fino alle 4 quindi vi faccio capire c'è città bloccata, infatti non so come farò a tornare a casa, il look di oggi è la maglietta di nonna con pantaloni anch'essi neri e vabbè gli scarponi che li conoscete questi, questo è un po' da neve, sì mi piacevano così, li ho messi scusate la capigliatura, pessima ma ho sudato come pochi quindi non fateci caso oltre quello nulla mangerò panini come al solito e niente vedremo come passare il tempo spero che passi presto così posso già tornare a casa e dormire anche perché sono stanca a parte quello nulla di troppo interessante io poi farò il corso di cucito che speriamo che stavolta Paola ci sia così ci fa un po' di compagnia e niente io vi saluto, ci vediamo tra, vabbè, oggi o domani con il prossimo vlog ciao